Musica Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Televari da Roberto Maggi. In primo piano parliamo di reddito di cittadinanza. Le preoccupazioni legate alla sospensione, come prevedibile, continuano a tenere banco in queste ore. Anche il sindaco di Bari, il presidente nazionale Anci Antonio De Caro, è intervenuto per fare chiarezza su alcuni aspetti. Ce ne parla in questo servizio Maricla Pastore. A partire da oggi, primo agosto, oltre 12 mila pugliesi non riceveranno più il sussidio mensile previsto dal reddito di cittadinanza. E a Bari continua a regnare il caos, nonostante la morsa sui sindacati pare essersi allentata. O almeno per il momento, poiché la responsabilità nelle ultime ore è ricaduta sui comuni. Nell'SMS, attraverso cui l'Inps ha informato i beneficiari della sospensione dell'erogazione del reddito, infatti, si legge che la situazione del cittadino sarà presa in carico d'ora in avanti dai servizi sociali. E per fare chiarezza, è intervenuto il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci Antonio De Caro, preoccupato per le eventuali ripercussioni. Siamo preoccupati per quello che potrà accadere nei prossimi mesi, perché a partire dal primo gennaio 2024 anche questa proroga che c'è stata con la presa in carico dei comuni da un lato e dall'altro lato con l'attivazione di un percorso di formazione a lavoro per altri nuclei familiari, per quelli che sono definiti attivi, terminerà. Dal primo gennaio 2024 si restringerà la platea degli aventi diritto del reddito di cittadinanza e quindi abbiamo paura che poi quei nuclei familiari si rivolgeranno al comune che non ha risorse economiche attraverso i servizi sociali per garantire la tenuta della comunità. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, nonostante le numerose criticità che potevano essere risolte per evitare truffe, il reddito di cittadinanza ha rappresentato in questi quattro anni un'efficacia in forma di contrasto alla povertà, specialmente qui al sud e in una città come Bari dove il tasso di disoccupazione è molto elevato e ora non resta che pensare anche a tutte quelle famiglie più fragili che dal primo gennaio 2024 rischiano di non avere più tutele. E proseguiamo parlando di università con i conti che vengono presentati all'interno del bilancio ma anche poi quelli che saranno gli investimenti per il futuro. Andiamo a vedere quali sono i dati e gli elementi che emergono dal rettore Stefano Bronzini. 148 nuovi posti per docenti nel 2023, la riduzione della contribuzione da 654 a 400 euro per i redditi sotto i 6.000 euro di sé. L'Università degli Studi di Bari Aldomoro presenta i risultati del bilancio unico di esercizio relativo all'ultimo anno trascorso con tutta una serie di novità che partono dal nuovo regolamento tasse e contributi alle linee di indirizzo per investimenti e ricerca. Una delle novità per l'appunto riguarda il personale. L'età media si è abbassata di nove anni, segno di un ricambio avvenuto nell'ultimo periodo dopo gli anni di crisi che avevano imposto la frenata del turnover. Sebbene non si sia ancora ai livelli del 2008, quando un'Iba contava nel complesso ben 3.850 unità di personale, l'obiettivo è quello di garantire una crescita già nel breve periodo. Solo tra gli insegnanti si passerà da 1.690 a 1.800. Le novità però riguardano anche gli investimenti sui plessi che ospitano i dipartimenti. Senza considerare quello che è già previsto dal PNRR, con fondi proprio l'Università provvederà una serie di investimenti che vanno dalla nuova aula magna del campus alle aule di medicina, passando per il rifacimento dell'ortobotanico e per l'efficientamento energetico, per un totale di 27 milioni già sul piatto nell'immediato. Il Rettore Stefano Bronzini ha illustrato i dettagli del piano. Sono numeri fortunati appunto. Parlano di un'università che ha saputo investire bene. Nel 22 abbiamo chiuso il bilancio con un positivo di 16 milioni, il che ha dimostrato come abbiamo saputo spendere in tutto l'anno in investimenti. E ancora più di come questi milioni potranno servire per le migliorie nell'ambito sia della didattica sia della ricerca. A questo bisogna dire che non è contabilizzato ancora il PNRR, dove Bari ha annoverato un grande successo di investimento, oltre 250 milioni. E tutto questo si è riversato e si riverserà nella costruzione di nuovi edifici, ovvero nuove aule per studenti, nuove sale lettura e soprattutto luoghi dove gli studenti si potranno incontrare con le tante imprese. Questo è uno dei passaggi fondamentali che è stato all'origine anche della nuova offerta formativa, che si è ampliata di sei corsi, due magistrali e quattro triennali, e che ha ampliato anche la gamma delle 380 borse di dottorato fatte con le imprese. E proseguiamo invece adesso collegandoci con il nostro sito web www.telebari.it per tutti quanti gli aggiornamenti dalla rete. Italo Cinquepalmi, vengo da te. Buongiorno Roberto, e allora perquisizione e sequestri di beni per un valore di oltre 40 milioni di euro sono in corso tra le province di Bari e Foggia da parte della Guardia di Finanza. L'indagine riguarda una presunta frode legata all'accessione del credito d'imposta in relazione bonus ed edizi. I destinatari di provvedimenti sono 5 persone fisiche, indagate per emissione di fatture o altri documenti per operazioni esistenti, indebita, compensazione, riciclaggio e rotto riciclaggio e sei società con sede a Bari e Gioia del Colle. E andiamo avanti, da oggi i dati sui prezzi medi del carburante dovranno essere esposti dagli pianti di distribuzione sul territorio con l'obiettivo di favorire la trasparenza. La media nazionale del self-service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. A livello territoriale però i prezzi più alti della Verde sono quelli della provincia di Bolzano con 1,945 euro al litro e della Puglia con 1,943 euro al litro. E chiudiamo, si è spenta all'età di 59 anni Daniela Mazzacane, giornalista e conduttrice di Telenorba. Il volto dell'emittente di Conversano combatteva da tempo contro una brutta malattia. 25 anni di carriera nel mondo del giornalismo è stata la conduttrice del TG Norba e della trasmissione Pomeriggio Norba. Daniela Mazzacane lascia due figli e il marito. La redazione di Telebari tutta si stringe attorno al dolore della famiglia e dei colleghi di Telenorba e Radio Norba. E allora con questo è tutto per oggi Roberto, a te buona giornata. Grazie, grazie Italo Cinquepalmi. Noi invece proseguiamo parlando di politica con Fratelli d'Italia che ieri ha fatto un po' il punto in ottica amministrativa e guardando alle amministrative non c'è ancora il nome di un candidato del centrodestra alla corsa per il posto di sindaco di Bari però si cerca di pensare un po' quale sia la strategia. Insomma è iniziata un po' la campagna elettorale per le amministrative e per le europee. Allora andiamo a sentire le parole del senatore Filippo Melchiore che ha fatto un po' il punto della situazione. Noi siamo qui con la funzione di servizio. Se guardo all'attuale presidente della regione, l'attuale sindaco, dal primo momento in cui sono entrati pensavano a quello che dovevamo fare dopo mentre noi stiamo pensando alla qualità dei cittadini che è una cosa un po' diversa. E dobbiamo smettere anche di fare liti. Noi abbiamo assistito in questi anni a tante liti, tante liti tra il sindaco e il presidente della regione. False o vere? Ma ecco penso che la politica non sia questo. La politica significa pensare solo ai cittadini, pensare solo a soddisfare la loro qualità della vita e renderla migliore. Questo diciamo è il senso che noi come Fratelli d'Italia oggi per questo siamo arrivati al 30%, per questo cresceremo sempre di più e sempre meglio. E adesso cambiamo completamente argomento e parliamo dell'iniziativa organizzata dalla WISP in collaborazione con il gruppo cinofili dei carabinieri per cercare di avvicinare i più piccoli a dei modelli positivi. I cani pastori addestrati, lo sguardo attento dei bambini a seguire i movimenti degli animali torna all'appuntamento che vede il gruppo cinofili dei carabinieri far visita ai piccoli partecipanti del campus della WISP. Riconoscere un modello positivo attraverso l'intermediazione dell'animale è uno degli obiettivi che si sono posti dal comitato locale dell'Unione Sport per Tutti. Due militari del nucleo cinofili dei carabinieri di Modugno con un'unità cinofila antidroga hanno messo su al campo capocasale di San Girolamo una lezione di legalità incrociata con momenti ludici. Il secondo appuntamento estivo dopo quelle dello scorso 21 luglio aveva visto i protagonisti gli agenti della Polizia Postale nell'ambito dell'iniziativa Crescere Insieme per Vivere Meglio. La presidente del comitato di Bari, Veronica Dauria, ha spiegato nel dettaglio l'iniziativa. Noi abbiamo voluto iniziare promuovendo il contatto dei bambini con le forze dell'ordine valorizzando quello che è l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla discriminazione, nella lotta alla illegalità. Noi vogliamo in altri termini che ai bambini arrivi un messaggio. Il messaggio è che esistono altri supereroi. E cambiamo argomento, dal 2 al 10 settembre torna a Putignano il Karl Orff Music Festival per cinque serate di musica classica. Abbiamo sentito il direttore artistico del cartellone internazionale Vito Amatulli. Torna a Putignano il Karl Orff Music Festival per la diciassettesima edizione, la kermesse internazionale di musica da camera che conclude ormai da anni la stagione concertistica classica in Puglia. In programma dal 2 al 10 settembre nel teatro comunale di Putignano, il festival, ideato dal violoncellista americano Michael Flexman, ha l'obiettivo di far avvicinare a questo genere musicale un pubblico sempre più giovane. Quest'anno, infatti, la più grande novità riguarda l'esordio della Karl Orff Chamber Orchestra, l'orchestra da camera del festival, composta da una selezione di alcuni dei migliori giovani talenti del territorio. E non solo. Per questa edizione farà parte del cast anche il violinista israeliano Yuri Gandelsman, uno dei musicisti più ricercati della sua generazione. Quest'anno la chicca di questo primo concerto, per esempio, è la prima esecuzione assoluta di questo concerto, Yiddish concerto per violino e orchestra d'archi, dell'autore contemporaneo, Kausson, ed è molto interessante. Poi, come al solito, lo sguardo alle nuove generazioni, ai nuovi talenti del territorio è ben presente. Infatti, il 3 settembre ci sarà questo concerto dedicato alle giovani promesse, queste giovani promesse del territorio che sono tutti laureati e laureandi dei nostri conservatori, a cui noi diamo l'opportunità di potersi esprimere in un cartellone internazionale. L'invito è a tutti a partecipare a Putignano, noi vi aspettiamo. E proseguiamo invece, presentata Conversano alle notti della Contea, la tre giorni di eventi e rievocazioni medievali in programma nel prossimo fine settimana. Ci spiega tutto nel servizio Francesco Russo. 300 figuranti provenienti da tutta Italia, 13 banchi storici e didattici, scene rievocative e spettacoli d'epoca permetteranno ai visitatori di fare un tuffo nella storia. A Conversano, che si prepara l'ottava edizione delle notti della Contea, per rivivere dal 4 al 6 agosto dalle 19, tra vicoli, piazze e slarghi, le tradizioni secolari che hanno costituito l'identità dell'antica Norba. Un evento che ha una caratterizzazione proprio sociale, per cui c'è un grande coinvolgimento. Domenica 6 agosto, dall'evento, il clube con il corteo storico, multiepoca, con dame, cavalieri, musici, tamburi e sbandieratori, guidato dal conte Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, interpretato dal celebratore di TV e teatro di origini conversanesi Ettore Bassi, che si affaccerà dalla loggia del castello per salutare la città. Una responsabilità importante perché è vestire i panni di chi in questo paese ha avuto un ruolo importante, in un verso o nell'altro, comunque rappresenta l'identità di una città. Io mi sento conversanese, ma anche perché lo sono, perché mio padre è di Conversano, la sua famiglia è di Conversano, io sono stato e sto a Conversano spesso. La manifestazione promossa dall'Associazione Sensazioni del Sud non tralascerà l'artigianato e la gastronomia con la possibilità di utilizzare una nuova moneta. Quest'anno abbiamo aggiunto a quello che è il Ducato d'Argento, coniato l'anno scorso, il Ducato d'Oro. Infatti avrete modo di ammirarlo durante i tre giorni, quindi avrete modo anche di degustare le pietanze attraverso il tocco e l'utilizzo di questo Ducato d'Oro, che rimane praticamente meraviglioso. E ci spostiamo ora invece a Casalvecchio di Puglia, dove è stato un successo la festa della fratellanza della comunità italiana di origine albanese che hanno riempito le piazze del paese per due giorni. Ci racconta tutto nel servizio Nicola Saracino. Grande successo per Bella Zeria, la festa della fratellanza delle comunità italiane di origine albanese, che a Casalvecchio di Puglia ha fatto registrare piazze gremite e paese in festa per due giorni. Applausi e rito dei selfie per Sara Cutaio, un giovane talento casalvecchiese, e per il più esperto Valerio Scanu, assoluti protagonisti della serata finale sono stati anche la Mellos Orchestra e il maestro Francesco Finizio, capaci di impreziosire la festa, con altissimi contenuti artistico-musicali. In piazza, poi, non è mancata la performance delle allieve e degli allievi negli stage di musica e canto condotti dai maestri musicisti Admir Scrutai e Anton Giulio Galeandro. La serata finale di Bella Zeria, già nelle ore precedenti al concerto, era stata capace di regalare tante emozioni con l'intervista a Caterina Misasi, attrice protagonista del film Netflix intitolato Arberia, e incentrato sulle profonde radici arbresce della Calabria, regione della quale sono arrivati una band musicale e i gruppi folk più numerosi, tra quelli giunti a Casalvecchio. La festa della fratellanza delle comunità italiane di origine albanese guarda ora al futuro. L'idea espressa dal sindaco Noè Andreano è infatti quella di far compiere un salto di qualità al festival. L'orizzonte può essere rappresentato da un festival di tutte le minoranze linguistiche presenti in Puglia, a cui la regione starebbe già lavorando. E spostiamoci ora invece a Trani, dove è stata conferita la cittadinanza onoraria Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco Nebro di Sottoscorta, un vero eroe dell'antimafia. Lo ha intervistato per noi Massimo Pillera. Cittadino di Trani, un cittadino senza paura. Per me è un grande onore, certo, è anche una grande responsabilità. Sentirò da oggi questa comunità al mio fianco nelle battaglie di legalità e giustizia che facciamo, che tanti come me portiamo avanti. È una scelta anche importante che è una carezza al cuore, che porterò dentro il mio cuore e porterò a casa mia moglie e le mie figlie. Senta, c'è questo equilibrio tra una forza dello Stato nel raggiungere questi risultati, la cattura di Matteo Messina e Denaro e poi invece un certo silenziatore dell'antimafia. Ma guardi, il tema dell'antimafia, io ho detto l'altro giorno, il 19 luglio a Via D'Amerio, che il miglior modo per commemorare i morti è quello di difendere le norme antimafia di questo Paese. Consapevole però che il miglior testo antimafia del nostro Paese è la Costituzione ed è il dovere di cittadinanza, dal quale nessuno di noi può sentirsi esentato. Ecco, io direi di ripartire da quello. E proseguiamo e ci spostiamo nel Salento. Vernole diventa plastic free, il sindaco vieta con un'ordinanza il lancio dei palloncini in servizio di Fabio Serino. Il comune di Vernole ha preso una significativa misura nella lotta contro l'inquinamento marino, introducendo un divieto totale di lancio di palloncini all'interno del suo territorio. Questa iniziativa mira a proteggere le preziose risorse marine e a preservare l'ecosistema costero per le generazioni future. I palloncini, spesso rilasciati durante eventi festivi o cerimonie, sono particolarmente dannosi per gli ecosistemi marini, poiché possono viaggiare per grandi distanze e finire in mare. Il sindaco di Vernole, Mauro De Carlo, insieme al Consiglio Comunale in collaborazione con l'Associazione Nazionale Plastic Free, ha riconosciuto l'importanza di adottare provvedimenti concreti per proteggere l'ecosistema marino che circonde il comune, firmando l'ordinanza e ricorda come studi effettuati a livello internazionale abbiano dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell'ambiente. Si conta che oltre 12 milioni di tonnellate di plastica ogni anno finiscano in natura, più di 100 mila mammiferi, un milione di uccelli marini e 40 mila tartarughe marine muoiono ogni anno dopo aver ingerrito plastica. Il divieto di palloncini, oltre ad essere una misura preventiva per ridurre l'inquinamento marino, contribuisce anche a promuovere una maggiore sensibilizzazione sulla problematica ambientale all'interno della comunità di Vernole. Educare i cittadini sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili è fondamentale per garantire un futuro migliore. Naturalmente era Vernole. E questa era l'ultima notizia invece del nostro telegiornale. L'informazione di Telebari prosegue però sui nostri canali social sul nostro sito www.telebari.it A tutti un buon proseguimento di giornata. Il meteo è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Ben trovato in aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 2 agosto. Una giornata di attesa sull'Italia con l'anticiclone prima di un sostanziale cambiamento che ci sarà nella seconda parte di settimana per questo minimo di bassa pressione che veicolerà aria fresca atlantica sulle nostre regioni quindi giovedì e venerdì intensi temporali al nord e poi nel weekend calo termico e qualche temporale anche al centro-sud irromperà qui il maestrale. Andiamo a vedere quindi cosa succederà nel dettaglio. Giornata di bel tempo pochi temporali in sintesi la mappa dell'Italia possiamo vedere sole prevalente su molte zone e anche le temperature mediamente attorno ai 29-33 gradi ma in alcune zone punte di 34-35 gradi. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trabi Meteo. Il Meteo è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata